Wey amici bentornati in un nuovo video spacchettamento, un altro unboxing di prodotti che mi sono arrivati dal sito di Prozis Oggi abbiamo due pacchi, uno di prodotti surgelati e uno di prodotti normali, secchi così che si possono spiedire Oh questo è pesantissimo Come sempre mentre lo sto aprendo vi ricordo che se volete acquistare qualcuno dei prodotti che vedrete all'interno di questo video A parte trovare i link in descrizione, inserendo il codice sconto di Zapper, tutto maiuscolo e tutto attaccato, otterrete il 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito Più tanti omaggi, tanti prodotti in omaggio che vi faccio uscire qui di lato, che vi verranno regalati dopo quella soglia di spesa Comunque vedete la spedizione dei prodotti surgelati, viene fatta in questa scatola di polistirolo molto spessa, isolante Più dentro vengono messe queste lastre di ghiaccio secco, che è praticamente anidride carbonica congelata, che resiste molto Guardate quante ce ne sono, ho un'idea Come stavo dicendo, visto che questo è ghiaccio secco, diamo un po' di atmosfera Adesso c'è molta più atmosfera stile fantabosco Ma questo è fumo? Sì, me lo ricordo perfettamente Allora come vi ho detto, vedete che bell'effetto spumeggiante fumoso Comunque questo è tutto ghiaccio secco che viene messo all'interno per far sì che il trasporto dei prodotti surgelati non arrivino sciolti in questo periodo Infatti adesso sono tipo 40 gradi Comunque iniziando ho preso questi due gelati, queste due confezioni di gelati Queste sono, no, queste sono entrambe delle barrette Questa è una barretta tipo sneakers, questi sono gelati proteici, sono buonissimi Più questi altri qua che invece sono alla frutta, alla fragola, diciamo alla mora, al mirtillo In più Ho quest'altro scatolino In cui ci sono appunto gli stecchi Che questi sono tipo il magnum Questi secondo me sono buoni come magnum se non più dei magnum, sono di una qualità altissima Comunque devo fare presto prima perché adesso fuori dalla scatola si scioglieranno velocemente Ho preso poi dei pasti pronti che secondo me sono molto utili Sono ad esempio molto funzionali per chi appunto si allena, ha una vita molto occupata Deve fare molte cose, non ha tempo di cucinarsi Però vuole seguire una dieta bilanciata Perché infatti, vedete, questi sono dei pasti pronti Ad esempio questo è, sono i mac and cheese con il pollo E tutti quanti sono studiati ed hanno scritto proprio bene, in grande, tutti i valori nutrizionali Le calorie, le proteine che uno va a consumare Così magari chi sta facendo una dieta e deve sapere precisamente tutto quello che va a consumare C'ha già i pasti pronti e sa quello che va ad assumere Comunque ho preso questi qua Mac and cheese con pollo Più Ho preso questi qua Delle penne al formaggio Questo è il rumore È il rumore del ghiaccio Comunque, vedete, anche queste qua C'hanno tutto altro contenuto proteico E tutti i valori nutrizionali che ci sono scritti qui Poi ho preso queste qua Che sono invece il pollo Con una salsa di burro di noccioline E arachidi tostate Questo lo volevo provare E sono quattro Eccolo qui l'ultimo Questo invece è semplicemente il riso cinese Quello là, il riso che vi mangiate dal cinese Ecco qua, questi sono i quattro prodotti surgelati che ho preso Voi fatemi sapere nei commenti Magari se volete che faccio un video a parte dove provo questi quattro prodotti E vi faccio comunque una recensione sul sapore Per effettivamente sapere anche io Sono un po' curioso Invece di mangiarmeli così da solo Faccio vedere anche a voi di ciò che sanno Adesso non lo so se li rimetto un attimo qui dentro Perché tanto è pieno di ghiaccio Scusatemi ho dovuto pulire un attimo perché si era fatta proprio una tussima Ok apriamo quest'altro pacchettino Un po' di pluribull Che qua c'è sempre la lista di tutto quello che uno acquista E poi allora iniziamo con qualcosa che ho preso Le prime cose che ho preso sono queste paste ai legumi Infatti sono una pasta più proteica e senza glutine Quindi questa ad esempio è con riso e nocciole Mentre quest'altra qua è invece di piselli Piselli freschi Pasta piselli e riso e nocciole Piselli l'ho sbucciato personalmente Ho preso poi come sapete della frutta secca Perché io vado matto per la frutta secca E sul sito c'è una qualità e un prezzo ottimo Ad esempio ho preso queste nocciole Che sono glassate al miele e salate Sono buonissime Ho preso poi questi due particolari tipi di burro Burro di noccioline Allora questo qua è un burro di noci pecan Caramellizzate quindi dolcificate Sono bellissimo Un odore fantastico Guardate che bello E poi ho preso quest'altro Che è sempre un burro di noccioline Però queste sono noccioline americane Arachidi con cioccolato Quindi è tipo una sorta di nutella Con le arachidi Con il burro di noccioline Una sorta di misto tra burro di noccioline e nutella Ho preso poi alcuni prodotti di abbigliamento Allora ho preso questo qua Che è un completo maschile Allora aspetta un attimo Fammi andare a vedere Questo penso che siano i pantaloncini No questa è la maglietta La vediamo dopo Vediamo prima i pantaloncini Eccoli qui Guarda che bellini questi pantaloncini Parano allenarsi con la pediprotis Questo bel blu E con l'elastico tutto marchiato C'ha pure le taschine catarifrangenti E' proprio bellino Adesso casomai lo indosso e ve lo faccio vedere Più la maglietta abbinata Eccola qua Questa è stile squadra di football americano Quindi è così davanti E così è dietro Bellina eh Questa è tutta traforata E' leggerissima e freschissima Non lo so se si riesce a vedere attraverso Vedete attraverso? Si vede? Si vede tutta traforata E' tutto questo tessuto freschissimo per l'estate Bellissimo In più ho preso anche un completo Da donna Non lo so se ci sono ragazze che seguono il canale Comunque può essere interessante Anche se volete fare un regalo A qualcuno A una vostra amica A una fidanzata Allora Qui c'è il pantalone Questo pantalone di questo giallo Bellino E' bella elastica Vedete anche questa è tutta traforata Cani dettagli rosa Questa anche penso che devo farvela vedere indossata Però non la indossero io E poi c'è anche la parte di sopra Ecco qua Vedete questa è la parte di sopra Il crop top Ecco qua Adesso un attimo Vediamo se riesca ad indossare questi Questi completi Allora raga avete visto praticamente come calza Come viene indossato il completo femminile Questo invece è quello maschile Qua ci stanno pure i pantaloncini Che bellini E questi sono tutti i prodotti Che ho acquistato questa volta E' caduto questo congelato Lo devo fare presto Perché si staranno scongelando E devo metterli in freezer Altrimenti poi devo buttare tutto E come sempre vi ricordo Se volete prendere qualcuno Di questi prodotti Volete acquistare qualsiasi prodotto presente sul sito Trovate i link in descrizione Ed inserendo il codice SCONTO DOZAPPER Tutto maiuscolo e tutto attaccato Otterrete il 10% di sconto Su tutti i prodotti del sito Fatemi sapere con un commento Se volete che provi In un altro video dedicato Tutti questi prodotti sul gelato Così da sapere più o meno Che sapore hanno Che gusto hanno E nel caso il video sia stato di vostro gradimento Non dimenticate di lasciare un mi piace E noi ci rivediamo domani Con un nuovo video Ciao